buongiorno a tutti buona domenica e vorrei approfittare di questa mattinata per condividere con voi una parte che chiamiamola di studio anche perché ieri, cioè ieri scusate venerdì sullo standard pur 500 ma questo è un concetto che si può applicare su tutti i mercati c'è stato, vedevo anche nel video fatto con Stefano Scalper ci sono stati dei movimenti sul quale ho lavorato tutto il venerdì pomeriggio nella sessione d'apertura del standard pur 500 molto emblematici del movimento dell'attivazione di un movimento da parte delle mani forti allora su questa situazione abbastanza fresca ho voluto fare dato che sto completando le mie dispense sul lavoro sulle mani forti che appena sarà pronto vi farò sapere ho voluto condividere con voi questo video dove cerco sempre nell'artigianalità del mio modo di esporre quindi senza una preparazione molto molto grafica ecco chiamiamola così cerco di individuare quali sono le fasi e quali sono poi le regole da seguire quando voglio fare un trading di following mani forti allora qui stiamo entrando in una metodologia operativa che non è quella dell'individuazione di segnali su rotture o su figure di analisi tecnica ma sulla pianificazione di una giornata di trading sulla base di quello che io osservando con molta pazienza quindi senza avere quella assoluta voglia di dover per forza fare un'operazione ma tramite una corretta osservazione una corretta attesa io riesco in questo caso qui ad individuare quello che le mani forti stanno preparando in questo momento allora nel momento in cui si apre una sessione di trading sessione di trading si intende quando entrano i volumi quindi può essere faccio un esempio alle 14.30 se c'è un dato dell'inflazione può essere l'apertura in caso delle 15.30 e qui si sta parlando degli orari italiani però parlando di SP sono questi gli orari d'apertura per il DAX sarebbe le 9 o alle 8 se viene fuori qualche dato di mattina ecco in questa fase qui praticamente si apre una sessione in questa sessione qui normalmente si verificano delle fasi di preparazione del lavoro da parte delle mani forti che poi possono portare nella giornata a tre situazioni abbastanza evidenti il primo è una direzione long il secondo è una direzione short il terzo è una direzione laterale senza andare fondamentalmente da nessuna parte e questa è un'informazione che posso intuire anche prima ma che posso sicuramente con l'osservazione con la pazienza e l'attesa constatare successivamente quella di venerdì è stata una giornata molto difficile quindi la prendiamo molto in esame perché è stata una giornata molto lavorata dalle mani forti non è detto che il lavoro fatto in una giornata dalle mani forti di sessione aperta si concluda nella sua esecuzione nella giornata stessa a volte sono lavori preparatori che fanno che possono sfogarsi in sessioni successive però l'importante è capire quando ci sono dei segnali evidenti in cui il loro ingresso il loro lavoro preparatorio si sta sviluppando allora innanzitutto andiamo a vedere quali sono queste fasi della sessione di mercato allora io questa è una cosa che ho costruito io quindi non ci sono testi o corsi che hanno evidenziato questo e questo viene un po' dalla mia esperienza nel gestire il trading in una maniera un po' diversa allora premetto subito molti sono hanno l'istinto o la voglia di voler approfittare dei mega movimenti della giornata per poter così garantirsi maggiori profitti durante la giornata io ragiono invece un attimo al contrario uso sempre la battuta che non mi piace uscire in barca col mare in tempesta preferisco uscire quando il mare è calmo in questo senso quindi andare in quella fase di mercato in cui lo sfogo dei grossi movimenti si è praticamente sviluppato e poi dopo quindi non durante l'apertura né durante la notizia dopo vado a a cercare quello che è meglio per me in una situazione molto più di calma perché? perché io faccio un trading sui piccoli profitti sulla base dell'ottenimento di questi profitti tramite la volatilità quindi a me basta sapendo qual è la volatilità media di quella giornata quindi la massima fatta durante l'apertura cosa mi posso aspettare da ogni singolo segnale quindi ogni singolo ingresso e quale stop è anche dover pensare di mettere in base alla stessa volatilità quindi la volatilità si controlla molto di più quando va a calare sempre però a mercato aperto perché ci sono i volumi e ci sono le mani forti che operano e quindi in questo caso qui ho la sensazione di controllare eventuali estensioni a meno che non ci siano notizie improvviso cose di questo genere chiaramente quello non è prevedibile gli stop però si servono a questo e quindi avere una situazione abbastanza più serena nel gestire il trade lo so che il trading invece è una narrazione di fenomeni che riescono nei momenti di maggiore esplosione del mercato trovare gli ingressi migliori e ottenere i profitti maggiori è un po' come andare a pesca e chiaramente vado sempre a raccontare quando prendo il pesce più grosso però fondamentalmente nei 20-30 anni in cui praticamente ho sviluppato un attimino da autodidatta un po' di lavoro sul trading e ho notato che si ottiene molta più regolarità di profitti nel momento in cui le mani forti e se stesse hanno finito un lavoro preparatorio quindi iniziano a lavorare in una situazione di calma costruendo qualcosa di più interessante e duraturo vediamo queste fasi io ho individuato in ogni sessione di trading una prima fase che viene chiamata spazzatura notturna allora quando si parla di spazzatura notturna sui mercati americani si sta parlando anche della mattina europea che chiaramente il future dell'SP si attiva di più perché praticamente segue l'andamento del mercato europeo però fondamentalmente dobbiamo considerare che gli statunitensi si svegliano praticamente all'una e mezzo del pomeriggio per noi quindi all'ora di pranzo e quindi praticamente quello che vedono realizzato sullo FUSESP precedentemente la sessione europea la vedono come una situazione notturna la seconda fase è lo scannatoio pre-apertura allora prima e dopo l'apertura alle 14.30 generalmente si attivano dei movimenti più importanti con dato senza dato con dato chiaramente grossi volumi alle 15.30 poi c'è invece l'esplosione di apertura che inizia a fare candele molto più lunghe aumentare molto di più la volatilità questa abbastanza sintomatica abbastanza consueto in questa fase qui avviene qualcosa di scassamente controllabile perché tende spesso non sempre però tende spesso a non creare una direzione ma a creare delle rotture delle false rotture fino a che a un certo punto non si tranquillizza e a quel punto ne me lo ritrovo in una determinata posizione inizia una terza fase dove c'è una preparazione del movimento successivo questa è una fase molto lenta è una fase dove inizia a creare le prime congestioni le prime 3D range o probabilmente sta proseguendo qualcosa che aveva già attivato e quindi lo fa con molta più calma in trend c'è una quarta fase invece che è l'attivazione del movimento in quella fase allora si vede praticamente che il movimento prende forma e il movimento prende direzione anche in un caso laterale ci si rende conto generalmente verso le 16 30 17 che non produrrà un movimento che viene andando in laterale e poi c'è una quinta fase che sono l'esecuzione degli ordini che lui ha individuato nel book quindi nel nostro caso lo andiamo a vedere nel grafico dove probabilmente tenderà a portare i prezzi che possono essere sotto o sopra in caso sotto va a fare lo short e sopra va a fare il long sempre che non rimanga in quella giornata laterale queste sono le cinque fasi di mercato io generalmente lavoro molto fra la quarta la quinta fase quindi le prime tre fasi per me sono pop corn come si dice guardo osservo però non sono se non rari casi completamente operativo questi rari casi quando probabilmente il giorno prima aveva già preparato tutto il lavoro e allora in quella sessione lì probabilmente può scatenare sin da subito l'attivazione del movimento che aveva preparato cos'è che mi fa capire quello che io devo o non devo fare cioè nel senso se è il caso in quel caso lì lavorare sull'apertura e rischiare quindi uno stop loss più lungo perché aumenta la volatilità o se invece è il caso di aspettare perché l'apertura probabilmente diventa uno stop hunting e quindi non ho modo di individuare un movimento che aveva preparato il giorno prima questo deriva tutto da un piano praticamente se le mani forti questa è la regola numero due la regola numero uno l'abbiamo vista prima andiamo a rivedere che deve essere assolutamente una regola che ci deve entrare proprio nel DNA noi dobbiamo pensare che i mercati sono manipolati allora su questa cosa dei mercati manipolati poi faremo anche un piccolo resoconto normalmente io frequentando chat o parlando con persone che fanno trading c'è un po' questa leggenda metropolitana che le persone che le mani forti manipolano i mercati per il solo semplice divertimento sadico di fregare le persone no c'è una ragione abbastanza chiara le mani forti manipolano i mercati è che l'unico modo che hanno per piazzare una quantità stratosferica di contratti e dopo vediamo il motivo la seconda regola che andremo a vedere è che le mani forti preparano il movimento con calma non è vero ed è una leggenda che le mani forti quando vogliono fare un movimento importante lo fanno con immediatezza quella è una reazione sembrata a notizia ma in una situazione di normalità di mercati quindi si sta parlando del 99% dei mercati perché lo short pandemico succede una volta ogni otto anni quindi io devo poter lavorare quando le cose sono normali giusto le mani forti quando vogliono invertire o proseguire un movimento ci mettono tanto tempo quindi ho tutto il tempo che mi serve per individuarle per capire che cosa stanno facendo non c'è bisogno di avere fretta quindi non c'è bisogno di dire a se stessi sempre che la frase cavolo sta partendo lo sto perdendo è il movimento della vita devo entrare la regola numero 3 prima dobbiamo individuare l'ingresso delle mani forti quindi la prima cosa da aspettare è vedere che loro stanno già facendo ingressi e solo dopo entrare per seguirle non anticiparle ma seguirle questa è la differenza fra perdere e guadagnare perché la differenza fra perdere e guadagnare perché è vero che anticiparli può far pensare che io ho preso più parte di quel movimento e quindi più profit però non ho controllo non ho controllo perché non so e lo vediamo con quello che è successo venerdì se quel è il movimento definitivo o se quel movimento produce quell'accelerazione tale da non farmi prendere lo stop e loss e quindi da poterlo mandare in gain subito l'altra cosa del controllo è sapere che in quel momento lì devo avere chiaro dove devo stoppare l'operazione se io entro a caso pensando intuendo che devo anticipare le mani forti in che caso lì loro hanno l'abilità nel farmi vedere un altro movimento contrario farmi in caso sono long farmi vedere un altro minimo e lì entro nel panico perché dico ma e ora dov'è essere il mio stop e loss sono dentro una trappola quindi se stoppo lui riparte o sono dentro o sono entrato in un movimento dove lui mi fa una barella rossa di un chilometro e io praticamente vado rotto più che la giornata quindi non avere questo controllo è uno dei motivi per cui tanti fanno piccoli guadagni poi perdono un'enormità in un'operazione regola numero 4 ci vuole segnale chiaro per l'ingresso e poi c'è una regola numero 5 prendere rapidamente profitto all'interno della volatilità questo è il mio metodo che io uso frequentemente andiamo un attimo a vedere di cosa stiamo parlando abbiamo visto che ci guardiamo la giornata di venerdì questo è un grafico a 5 minuti non sto a dirvi tutto quello che è il mio piano di trading scritto la 3D range daily che abbiamo visto nell'altro video il fatto che a 4.050 praticamente c'era il minimo la 3D range daily quindi sotto 4.050 non vado short perché potrebbe respingere prezzi essendo una 3D range daily fra 4.050 e 4.190 quello che io vado a vedere prima dell'apertura è l'individuazione innanzitutto di quelli che sono gli ordini non eseguiti che mi ritrovo nel grafico più ravvicinati possibili allora la mia situazione che io avevo alle ore andiamo a vedere prima dell'apertura quindi praticamente il grafico era questo vedete è questa qui praticamente lui già era in zona minima della 3D range su 4.053 il tutto probabilmente è avvenuto fondamentalmente grazie al fatto che l'Europa ha prodotto questa procedura short diciamo che già un'intuizione che qualcosina di respinta stava iniziando a fare 4.050 ce l'ho però qui stiamo parlando di 10.5 per il mercato user è notturno e quindi in questo caso qui non si opera però già posso individuare tutta una serie di situazioni che mi fanno pensare che se vale il concetto della 3D range e quindi non ci sarà una potente uscita short oltre il minimo da 3D range che ha sviluppato sul daily ci sono buone probabilità che lui inizi a voler prendere tutta una serie di ordini che nella giornata precedente e nella notte ha preparato questo è il fine della giornata precedente vedete questa è la chiusura e questa è la parte notturna dell'SP e lui inizia a fare tutta una serie di cosette abbastanza interessanti la prima è un mega cluster che probabilmente su un time frame più grosso tipo 15 minuti andiamola a colorare in maniera migliore con un doppio massimo quassù quindi l'idea che se lui conferma e quindi tiene fede la 3D range e quindi iniziano swing along perché siamo sulla base minima della 3D range daily vada a cercare questo doppio massimo cioè perché il massimo della 3D range 4190 il doppio massimo me lo ritrovo a 4135 quindi questo punto diventa già un punto di interesse un altro punto cosiddetti cluster che sono piccole figure fatti generalmente in mercato notturno giusto vedete dove non ci sono rotture long andiamo ad ingrandire questo cluster qua che è bellissimo questo cluster qui lui non l'ha mai eseguito cosa vuol dire non l'ha mai eseguito vedete non ci sono punte come invece succede qua vedete questa è una punta in cui il cluster è stato risolto non ci sono punte di rotture long e quindi questo può essere un cluster un obiettivo di un futuro movimento long e questo cluster ce lo troviamo a 4149 quindi siamo ancora a 40 punti sotto il massimo della 3D range andiamo a vedere se ci sono altre criticità minori perché vedo che qui lui ha tranquillamente rotto con questo spuffettino long e questa zona di cluster che aveva prima quindi a questo punto l'obiettivo ultimo potrebbe essere questo a questo ci aggiungiamo altre situazioni tipo questo piccolo cluster qua vedete e qui siamo a 4138 poi abbiamo questo doppio massimo poi scendendo vedo chi fa un altro doppio massimo che è un altro punto che può essere interessante per raggiungerlo quindi siamo a 4102 e poi alle 1.35 di notte mi serve sul piatto d'argento un altro piccolo cluster che è questo qui vedete e qui siamo a 4.090 poi ne ho un altro qua i cluster sono piccole formazioni così il massimo da 4 candele in su entro le 4 candele praticamente ma possono essere anche più lunghi però bene o male quando vedo una cosa di questo genere questo è un altro cluster e sono già 4.072 e questo è un altro cluster qui ancora il mercato non è aperto sono a mezzogiorno vedete come tiene attentamente non eseguiti questi ordini giusto poi a un certo punto l'apertura io in questo caso qui non opero anche se ci sarebbe un 1, 2, 3 che va a prendere questi primi due cluster probabilmente esegui anche quest'altro no lo tiene ineseguito e quindi questo è già più un dato che una volta raggiunto 4.080 lui non lo esegue più quindi lo scannatoio d'apertura dove io non opero vedete che non ha una direzione precisa ma un aumento di volatilità importante non ho idea di dove andrà di massimo volatilità perché mi parte da 2 e arriva a 6 giusto questa fase qui io cerco di non attivarmi nel trading questo è quello che abbiamo visto nelle varie fasi lo scannatoio praticamente l'apertura e la preapertura dove va a cercare tutti gli ordini sotto quindi stoppe l'ossi di chi era long tutti gli ordini sopra stoppe l'ossi di chi è entrato short qua ok ed è una fase molto ben controllabile ok qui siamo alle 16.40 alle 16.40 lui cosa fa dopo aver eseguito questi due cluster che vado ad eliminare perché praticamente sono ordini che non esistono più però mi mantiene ancora questo cluster a sinistra vedete lui continua con questa procedura laterale di scannatoio vedete e qui inizia a fare il primo minimo qua probabilmente molti sono entrati i long chiaramente non hanno chiuso in guadagno perché pensano che si attivi i long lui mi va a rompere il minimo precedente riparte un altro long sicuramente nessuno chiude su questo long e lui mi va a fare un minimo precedente e vi è discorrendo ecco cosa sta succedendo in questa fase qui e come riesco a individuare se queste sono procedure delle mani forti allora una delle indicazioni più frequenti nel momento in cui c'è un ingresso sulle mani forti è quando inizia a vedere delle ripetute sequenze di candele in direzione contraria perché succede questo allora cerco poi mi dovete dire se sono chiaro su questo concetto ma questo è un concetto basilare per capire come funziona facciamo finta che io ve lo scrivo qui facciamo un conto pari ho 10.000 contratti che ho deciso di utilizzare sono mani forte sono una mano forte sono market mover e ho il compito di comprare a 4.050 4.070 di prezzo medio 10.000 contratti però il book sul future recita in denaro e lettera 200 contratti quindi praticamente se faccio letteralmente il conto di 10.000 diviso 200 mi ritrovo che io devo trovare il modo di non saltare di 500 tic il book perché? perché se io piazzo tutti i 10.000 contratti in acquisto qua giusto? 500 tic di book potrebbero essere 150 punti di SP io lo faccio schizzare a 4.190 ok? quindi cosa devo fare? devo piano piano a botti di 200 contratti volta a volta comprare in punta di piedi e poi mollare perché devo riavere il prezzo per piazzare gli altri qui per esempio facciamo un esempio piazzati 2.000 ok? arrivo quassù e ne vendo 100 200 400 facciamo 300 e creo movimento short mi rimangono un portafoglio 1.700 a questo prezzo medio qui ideme qui ne ripiazza altri 2.000 ne rivendo 300 qua e piano piano fino a che non arrivo utilizzando probabilmente una piazzata anche di più eh perché una ripiazzata anche qui utilizzando questa procedura qui fino a che non arriva alla fine è che ho esaurito la mia dose di contratti perché se dovessi piazzarli tutti insieme io perdo il prezzo il problema delle mani forti per cui manipolano mercati non è che sono sadici è che hanno quantità enorme di contratti il book non li permette di poterli piazzare tutti insieme avere venditori 10.000 contratti in vendita in quel prezzo lì quindi devono piano piano costruire questo meccanismo da cosa non divido graficamente questo meccanismo questi sono accorgimenti che io posso avere se non sono dentro l'operazione sto aspettando ed osservo è una delle prime cose dei primi dettagli che mi dà in questa osservazione è iniziare a vedere questi swing contrari che sono oltre le tre candele di ritracciamento quattro candele quattro candele questi sono mani forti che compro quattro candele mani forti che compro perché perché fino a tre candele è un ritracciamento sano in una direzione ma da quattro candele da tre candele in su inizia a essere qualcosa di diverso idem in apertura chiaramente piazzo più contratti perché ho più volumi chiudo una buona parte di posizione tiro giù questa candela qui e poi sotto sul minimo perché inizia a avere degli ordini qua sotto io qua sotto ragazzi ho creato una buona dose su questo minimo e su questo minimo di stop e loss dei long che diventano ordini di vendita su cui io posso acquistare mi basta solo prendere il minimo e trovo una dose di contratti abbastanza importante perché nel frattempo tutti sono entrati i long che hanno messo lo stop e loss sotto la punta prima era qui e in apertura li ho presi dopo l'apertura è qui e li vado a prendere e andare a prendere ci compro sopra e rifaccio quattro candele poi ne faccio altri quattro e guardate caso ritorno a rompere anche questo minimo qui quindi ho altri contratti vi stop e loss dei long perché qui non chiudono i long non chiudono non ce l'hanno il metodo di chiudere nella volatilità poi vi dico cosa ho fatto io venerdì ok e rifaccio quattro candele e a un certo punto l'ennesimo 1, 2, 3 che poi andiamo a vedere tutti finalmente inizia a fare degli uncini di prosecuzione qui il movimento è attivato si sta parlando delle 17 fine dello scannatoio che mi è servito per piazzare questi e ora incremento e cosa uso per far salire l'indice serenamente tutti gli ingressi short perché sfido io chiunque a non pensare che venerdì sarebbe stato hyper short per molti traders per raggiungere questo cluster qua nella giornata che non vado ad eseguire questo lo eseguo vedete e questo non lo vado ad eseguire quindi rimango così chiudo parzialmente delle posizioni e in chiusura mi va a finire a questo prezzo qua però ho usato tutti questi ordini per far guadagnare 30 punti di movimento in questo caso movimento con trend definito e non più violato ok questa è preparazione scannatore poi preparazione una preparazione che era iniziata già con il mercato europeo 1 2 3 4 5 6 7 mandate di acquisto qui ci ho messo più contratti perché ho più volumi quindi più gente del book perché tutti vogliono fare l'apertura quindi ho messo molti meno perché è il mercato chiuso quindi ho messo una dose abbastanza importante piano piano i volumi diminuiscono perché il mio lavoro è finito e allora a questo punto addirittura ce n'è uno in più scusate quindi ricontiamo le procedure queste sono una due tre quattro cinque sei sette otto lui ha fatto otto mandati di acquisto su prezzo medio per piazzare la sua dose di contratti otto procedure di accumulo quindi mi conferma questa fascia qui che nella 3D range daily che abbiamo individuato a 4.050 come minimo lui ha deciso di accumulare al momento vuoi per farsi solamente questo long vuoi forse per iniziare a raggiungere questi punti qua che farà la settimana prossima approfittando di una situazione che pare short perché tutti venerdì ritenevano che mollasse dimenticandosi perché non è stato scritto un piano di trading ed è quello che è importante che c'è una 3D range e che con molte probabilità in quella 3D range lui si ferma e inizia il lavoro preparatorio quindi tutti convinti che fosse shot io vi garantisco che qui sotto ci sono stati tanti stop e loss di long che addirittura potevano essere entrati in questa zona qua in questo long qua e dico ma no questo molla tutto e venerdì meglio chiudere tutto quanto però se io vado in osservazione abbastanza attenta e so che quando inizio a fare queste procedure qui qualcosa sta succedendo di contrario e la sua attività di rompere i minimi questa è la manipolazione è per rappresentare la fine dei giochi uno short ma che altro per cercare non è sadico cerca tanti contratti da acquistare e dove sono i contratti da acquistare e sono quelli che entrano short vendono sulle rotture per cui devo per forza fargli questi minimi io qui posso iniziare a lavorare in una certa maniera allora ci sono detti l'apertura non si fa ma non perché non era buono ragazzi questa è un'apertura è un segnale fantastico e qui spiego un mio comportamento questo è un 1 questo è un 2 è il migliore 1 dei 3 che ha fatto nella giornata quindi dice perché non l'hai preso Simone allora vi spiego perché non l'ho preso per due ragioni e queste sono due regole fondamentali la prima ho un aumento di volatilità per cui se è vero che il mio profit di due terzi perché la mia regola è e la scriviamo ed è per questo che non rimango ingabbiato in un long prendo tre gruppi di contratti possono essere tre future sei future nove future un per tre due terzi li chiudo subito in profit generalmente a metà della volatilità a volte riesco a fare anche di più perché vedo che praticamente mi premia di più però ho poca pazienza sotto questo aspetto metà della volatilità un terzo metto stop a fare e lo chiamo pregi gratis parliamo in termini di casalinga qui ci pago le bollette il mio stipendio mensile qui vedo se riesco a guadagnare qualcosa di più quindi il mio ingresso deve essere con l'idea che ci sia un'accelerazione che rapidamente mi fa chiudere questi due terzi ma deve essere studiato in maniera tale che un terzo abbia più speranze di andare e che qui è il mio business ok in questo caso qui il segnale era molto buono però la mia volatilità mi impediva perché è una volatilità che andava a 5 quindi il doppio della media vedete la media più o meno è qua sui 3,3,8 mi impediva di avere un'idea corretta di uno stop e loss giusto cioè la stop e loss era molto più ampio di quello che poi sarebbe stata comunque la volatilità media che lui generalmente fa 5 minuti quindi questo io non lo prendo però è sempre un segnale buono e poi non lo prendo perché quando c'è l'apertura generalmente i segnali molte volte diventano failure e quindi poi dopo recuperare la posizione non è facile però dopo che c'è stato lo suogo d'apertura generalmente dopo le 16 e qui stiamo parlando già delle 17 guardo lo sviluppo della situazione non prendo short perché non prendo short perché nel mio piano di trading sono sul minimo della trading range quindi qui il tasto short per me è disattivato poi se molla si fa 200 punti sotto amen però se io ho un piano e questo piano è dire c'ho dei cluster sopra che ho individuato precedentemente e quindi sono sulla base della trading range io devo cercare più segnali long e poi inizio a vedere una procedura di mani forti in acquisto quindi devo preferire long da qui in poi dopo l'apertura allora le acque si calmano da cosa lo vedo che le acque si calmano la volatilità scende quindi so che il massimo di stop e loss che ho in una giornata è 6,4 quindi 6,4 punti e al prossimo segnale in questo caso opera e in questo caso lo ha fatto il minimo questo tra l'altro l'ho preso anche con la TTE voi vorrei dire TTE cosa sarebbe invece di andare a prendere sulla rottura del punto 2 l'ho preso qua sulla rottura della reverse e chiuso due test al punto 2 però facciamo finta di prendere la punto 2 ok il punto 2 recita massimo 4,061 quindi l'ingresso è 4,061 al punto 2 la mia volatilità il mio stop e loss è 6 punti sotto andiamo a vedere vedete questi sono 11 e inizia a essere un po' lontanuccio lo stop e loss il mio TEP PROFIT è 5,2 punti quindi io a 2 punti e mezzo 3 a 4,064 chiudo due terzi un segnale di uno perché chiudo due terzi a 4,064 perché non sono sicuro che sia il movimento giusto definitivo quanto fa di massimo qua 4,066 quindi questi tre punti per due contratti 6 punti vanno a target quindi questo 4,064 diventa ok più 6 punti perché ho due contratti da 3 punti in uno e siamo già a 6 punti lui cosa fa? un terzo non me lo manda in profit ritorno a fare un altro minimo allora a questo punto riattivo tutto il discorso probabilmente o molla e non sarà il mio trade perché non lo prenderò mai o vuole fare un'altra trappola perché ha bisogno di comprare altri contratti non ha ancora finito fa il minimo rifà lo stesso procedimento rifà 1, 2, 3 e io rifaccio la stessa cosa senza sapere che possa essere quella definitiva come poi è stato qui siamo alle 19 entro sul punto 2 e quindi scriviamo AIG 4061.3 4061.5 mi guardo la volatilità 4,6 quindi a 2,5 punti chiudo quindi a 4063 no 64 chiudo vediamo se 64 me lo fa lo fa va a 64.3 quindi io ho qui ok lo scriviamo 2,5 per 2 ok 2,5 perché la volatilità in questo caso è diminuita quindi prendo profit sui terzi prima uguale 5 bene è la volta buona? quindi abbiamo altri 5 punti siamo a 11 è la volta buona? no un terzo me lo stop però cosa fa? fa una cosa che prima non aveva fatto che è una conferma di trend sembra la volta buona uncino RH non va quindi più a rinnegar a negare questa fascia di 1,2,3 vedete? mi fa un uncino a questo punto io metto un ordine sulla rottura dell'uncino il massimo queste sono le tre idee che ho fatto io venerdì eh il massimo è 4.064 alto quindi 4.065 stesso discorso su due terzi quindi volatilità quanto siamo? sempre 4,6 quindi si cerca 2,5 più o meno a 4,67,5 si chiude due terzi quanto fa? li fa quindi anche questo ok ok 2,5 per 2 uguale 5 punti e mettiamo cantiare anche questo questo un terzo rimane attivo e rifà un altro uncino quindi il mio stop profit cioè il mio stop loss che prima era un pari su un terzo viene messo qua sotto sul minimo che fa il successivo uncino perché lo stop non lo riprende in più il minimo è e qui un terzo inizia a essere premiato 4.067,7 quindi stop e quindi questo stop loss già mi dà un gain visto che sono entrato a 4.065 di altri 2,7 quindi qui ok ok più 2,7 punti in cantiere fissati non sono ancora stato stoppato sono fissati cosa fa lui rifà l'uncino si arriva che sono le 21 e alle 21 mi fa un segnale che è un 1,2,3 vedete 1,2,3 dove io ho chiuso perché queste sono 4 candele di ritracciamento sciotte quindi è finita non sono 3 sono 4 e quindi ho chiuso praticamente a 4,73 quindi questo qui è diventato chiuso 4,073 quindi sapendo che siamo entrati a 4,065 più 8 punti ok se andate a vedere gli ingressi sono stati 4,64 4,61 4,65 nell'arco di questa giornata qui sui vari movimenti sono riuscito a fare due volte perché questo non l'ho voluto fare lo stesso range più una terza volta che è andata meglio quindi tre volte lo stesso range più un terzo che è andato meglio quindi ho fatto 5 punti più 5 punti 10 6 16 più 8 24 punti allora quanto è stato per chi invece è così abile da fare il mega trend della giornata il meno 4,47 quanto è stato il massimo 4,81 qui si sta parlando di 34 punti ho perso 10 punti rispetto al genio matematico che è riuscito a comprare al minimo assoluto a vendere al massimo assoluto ma questa cosa come avviene avviene stando molto attenti ad un ragionamento di base se io qui avessi iniziato ad operare caoticamente all'interno di questa cosa qui fossi rimasto ingabbiato nell'onghi e inizio a vedere dei minimi tutte queste fasi qua in stato di osservazione serena flat non le avrei viste quindi non avrei dato il tempo anche alla mia capacità di studiare i movimenti e quindi di comprendere di avere chiarezza del tutto non avrei dato tempo alle mani forti di comunicarmi io sto facendo questo quindi guarda Simone al prossimo uno dei tre prendilo perché probabilmente io parto poi dopo ti prendo un giro non parto ma ti chiudo la metà della volatilità perché io generalmente questa cosa la faccio o subito perché voglio comprare meno contratti o lo faccio con più calma perché ne voglio comprare di più tra l'altro in questa fase che è stata fondamentalmente laterale quindi abbiamo trovato 24 punti su un laterale così lui ha anche comunicato il fatto che si è accumulato perché c'è sempre un se se mi fai una notizia qui si vendano il loro progetto va in vacca e se ne faranno una ragione non sempre loro hanno ragione però ti sta dicendo fondamentalmente guarda probabilmente io andrò a rifarmi uno shortarello qua perché vedi che ho iniziato a chiudere delle posizioni in questa fascia di prezzo qua però tieni presente che questi cluster a questo punto li sto puntando quindi lunedì mettiti un attimo l'idea che dovrai cercare nuovi segnali di ingresso a questo punto cosa succede con la prossima seduta vedo cosa fa se me li va a fare subito long perché sono flat pace se invece mi fa la cortesia di rifarmi un altro 1,2,3 con un altro minimo relativo in questo caso perché se è un'accumulazione qua devi iniziare a fare di minimi relativi perché se no rischia invece di mollare definitivamente quindi hanno già chiuso si sono accontentati di questi 30 40 punti la giornata venerdì e hanno già chiuso ma se è un'accumulazione probabilmente lui farà una procedura così questo è il mio piano della prossima seduta per poi rifarmi un altro 1,2,3 qua che io probabilmente devo andare a prendere perché a questo punto stanno puntando questi cluster qua e anche questo ci avevamo dimenticato ok? perché andare a prendere questi cluster? ragioniamo con l'ottica delle mani forti allora cosa è successo qua? è successo che tante persone sono entrate short perché l'idea qui è ingabbiato e long ma qui è iniziato a ingabbiare short quindi l'idea che ci siano tanti ordini di stop e loss degli short qua sopra c'è quindi se io sono una fase di 3D range baby e quindi intenzione di fare swing e long e swing e short e 3D range sono dei momenti di intrappolamento in cui faccio uno scannatorio retail qua vado a comprare per una seduta per una sessione un po' di contratti per andargli a vendere quassù probabilmente o anche quassù perché cosa succede qua? che iniziano a scattare piano piano tutti questi qui servono a innescare il mercato tutta una serie di ordini in vendita perché sono stop e loss scusate in acquisto perché sono stop e loss degli short su cui lui piano piano venderà già venduto qua vedete su questo cluster qui lui ha venduto questi sono i primi profitti guarda quanti ce n'era qui vendiamo ok? nel frattempo essendo nato il ranger una volta arrivato qua su potrebbe iniziare a costruire tutta una serie di cluster qua sotto per andarsi poi a prendere tutti quelli che entrano long dicendo ci siamo i long questo va 5.000 e faccio la versione opposta questo è il lavoro delle mani forti le mani forti ragionano un po' fondamentalmente questa operatività qui voi cosa pensate che qui loro non hanno guadagnato come me? e hanno chiuso una parte parziale lo vedevamo prima ne compro 2.000 ne vendo 300 di contratti preso i profitti e poi rifatto lo stesso lavoro nel frattempo stanno guadagnando una parte parziale di profitti 4 volte ed è per questo che io devo ragionare dentro la volatilità perché io devo e questo è quello che ho fatto vedere nel video degli squali io devo essere pesce pilota il pesce pilota piglia brandelli scappa e si rifugia nella tana non posso stare lì dentro ad aspettare che lui faccia il massacro perché rischio poi di diventare io stesso preda se io non avessi venduto i due terzi nel momento in cui vedo parte della volatilità tra l'altro in tutti e due i casi l'ha fatta completa la volatilità ma è sempre meglio prendere un po' meno il brandello io sarei rimasto ingabbiato con degli stop per osse che me l'hanno scattato sui minimi perché ragazzi qui gli stop per osse vanno messi qua sotto tre volte due scusate perché io ho fatto questi due sarebbe se sei stato stoppato le volte e poi ho fatto il terzo che non sarei stato comunque stoppato perché andava comunque a buon fine ma non lo posso sapere se lui non vuol farlo un'altra volta questa procedura quindi cosa abbiamo visto con il video di oggi con il video di oggi abbiamo visto una cosa molto importante innanzitutto quali sono le dinamiche grafiche che io inizio a vedere quando le mani forti iniziano ad accumulare cioè iniziano ad invertire iniziano a preparare qualcosa cerco di levare queste scritte per avere più ordine che sono queste fasi di movimenti attivati con degli 1, 2, 3 poi interrotti ma che si vada a vedere bene ogni volta che li vedo interrotti sono quattro candele quattro candele normalmente sono quattro candele perché perché sono procedure di acquisto programmate molte volte vengono usate gli algoritmi quindi generalmente dedicano allo stesso tempo la stessa distanza queste sono quattro candele quindi sapendo che il ritracciamento deve essere il massimo tre candele in un trend il ritracciamento è di tre candele massimo una candela vedete quando inizio a vedere invece procedure che superano le tre candele vedi queste ancora tre candele eccolo qui questa è notturna non fa testo però quando inizio a vedere questa cosa qui inizio a pensare che probabilmente il trend nonostante faccia dei minimi perché a loro minimi gli servono per intrappolare per prendere dei contratti in acquisto ma probabilmente qualcuno qua sta decidendo che non si scende più perché non sono più dei ritracciamenti questi sono troppo lunghi come ritracciamenti hanno troppe candele come ritracciamento andiamo a vedere se troviamo qualcosa di simile al contrario eccoci vedete qui ha iniziato a vendere poi ti va a fare i massimi non ci sono dubbi però vedete quattro candele quattro candele fino a che non decide che è arrivato il momento giusto andiamo a vedere qua sotto dato che siamo andati di range guardate che similitudine ha questo grafico rispetto a questo lo vedete è simile perché lui anche qui rifà la stessa procedura do il segnale che mi sto attivando una certa direzione non è che devo entrare qui eh questo è un fase di osservazione inizia a rompere i minimi frequentemente e poi finalmente faccio l'uno due tre definitivo qui ho accumulato ho fatto vedere che io faccio dei ritracciamenti di quattro candele e inizia a rompere i minimi frequentemente che danno la sensazione che cede e invece non cede sono queste le procedure che lui attiva e generalmente usa le aperture proprio per fare questo tipo di lavoro però io devo saper osservare in questa situazione qua poi cosa mi serve mi serve il segnale senza il segnale non si opera quindi devo entrare negli 1, 2, 3 non devo dire secondo me accumulano quindi entro long perché dopo non ho il controllo dello stop l'osso in 1, 2, 3 il controllo dello stop l'osso ce l'ho 1, 2, 3 lo stop è sotto il punto 3 e mi va in gain 1, 2, 3 lo stop è sotto il punto 3 e mi va in gain e l'altra regola che è quella di prendere profitto appena lo vedo perché io lo devo fare come lavoro questo e non devo diventarci ricco immediatamente devo creare dei profitti regolari frequenti di una dimensione che il mercato ti consente perché se la volatilità ragazzi è 6 non posso pretendere di fare 20 punti con un trade lui ti sta dicendo che mediamente ne fa 6 poi sì questo ha realizzato 20 punti ma io sto entrando innanzitutto in una parte già attivata e quindi qui ho perso della volatilità 15 punti quindi lui la deve ricaricare e sono tutte cose che io devo tener di conto quindi devo avere l'umiltà di pretendere quello che il mercato mi dà e se quel giorno la volatilità recita a 6 a me il mercato mi dà 3 se quel giorno la volatilità recita a 20 allora io posso sperare di prendere 10 è chiaro questo concetto però tutto quello che qua è importante capire che ci sono delle regole ben precise su cui per cui i mercati tutti i giorni ma anche sui grafici daily su tutti i mercati su tutti i grafici vige una regola che i mercati sono manipolati i mercati sono manipolati perché l'unica modo per piazzare una grossa quantità di contratti è creare delle manipolazioni quindi creare delle rappresentazioni in cui il retail perde soldi perché io ho bisogno dei soldi di retail per accumulare o per distribuire poi dopo scatta il trend il trend è un'altra cosa che viene finanziata da retail in altro modo con gli ordini di stop e loss di chi è nel trend contrario o degli ingressi longhi sui massimi di chi va in direzione trend e quindi loro lasciano sviluppare il mercato da solo così ma l'attivazione avviene con una serie di trappole e di manipolazione che ripeto non è sadismo è che loro sono finanziariamente potenti e quindi non possono piazzare tutti insieme dei contratti non è come ci raccontano ah ho visto il data allora deve essere longa le mani forti vanno longa no hanno visto il dato probabilmente deve diventare longa allora preparano degli short per poi farlo diventare longa io sempre a battuta dico signori se questo scende scenderà senza gli short se questo sale salirà senza i long cioè se scende scenderà senza i retail che sono short se sale salirà senza i retail che sono long perché perché sennò finanziariamente non funzionerebbe la forza di mercato i long e gli short in direzione la danno solo alla fine del trend non all'inizio all'inizio invece chi è long si dispera stoppa chi è short entra e probabilmente tanti sono short in questa fase qui e stanno passando il weekend nella speranza che questa cosa ritorni qua sotto ok volevo condividere con questa cosa con voi vorrei che mi scrivesse se va bene questa modalità di esporre tutta una serie di indicazioni questa è una prima vedete che chi non ha usato le congestioni ma se si vanno a usare le congestioni vediamo anche che i segnali sono buoni anche con le congestioni per adesso volevo essere molto concreto su questo discorso qui scrivetemi se va bene così o se devo migliorare in qualche modo ciao a tutti e buona domenica ciao a tutti